Busetto terra di Giuseppe Verdi accoglie una delegazione estera con tanto di telecamere soprattutto di un artista a Delevax diciottenne che ha vinto un concorso verdissimo junior e che appunto seguirà qui in Italia accompagnata dalle telecamere della televisione estera quello che è un vero e proprio tour sulle tracce di Giuseppe Verdi Siamo con Marco Bergonzi che è figlio del grande tenore Carlo, del tenore verdiano per eccellenza Insomma il migliore del secolo, è vero, è stato omaggiato diciamo di questo Howard a Londra nel 2000 come principe fra i tenori, miglior tenore verdiano del secolo Del secolo, quindi possiamo dire tranquillamente Facciamo tutto il novecento per cui gli anni d'oro della lirica Quindi il migliore tenore verdiano di sempre possiamo dire È papà Carlo che ha voluto questo locale, noi ci troviamo all'interno dei Due Foscari I Due Foscari sì, l'ha voluto mio padre, è vero che come dice il nome intitolato il locale è il nome di un'opera verdiana L'ha voluto lui, è aperto nel 1965 per partito diciamo come hobby Ecco come voglia di mettere qualcosa nella sua terra Di lasciare un segno nella sua terra Qui pian piano la cosa è voluta e nel 1977 sono subentrato io Che in qualche modo ho portato avanti, spero bene Diciamo fino ad ora questo bel locale Ritenuto dalle guide come uno dei migliori ristoranti di Parma e provincia Come cantina una delle migliori d'Italia Per cui le nostre soddisfazioni ce ne siamo tolte Nonostante la crisi teniamo duro e vediamo di proseguire nel nostro cammino Vorrei fermarmi sulla suggestione di questo luogo Sono passati 50 anni perché il prossimo anno compiere 50 anni Però la suggestione del luogo è rimasta quella di un tempo C'è un arredamento che sembra che si sia fermato nel tempo L'arredamento è stato appositamente uno stile moresco-veneziano Appunto come l'opera, i due fosche li richiede Si rifà a quell'epoca Si rifà a quell'epoca assolutamente E di fatti è stata una scelta non indifferente Perché qui non è mai stato toccato niente Cioè come è stato fatto, lei vede ancora il locale Ancora come 50 anni fa Per cui sotto un certo punto di vista è stato anche buono Dal punto di vista economico Perché non abbiamo dovuto rifare assolutamente niente Visto che ospitate oggi per esempio una tv estone Quindi comunque ospitate turisti dall'estero Ecco che apprezzamento ricevete da parte di chi viene da fuori in Italia A busseto nella patria di Verdi Per un luogo così verdiano come il vostro locale Guardi, noi, io sinceramente non me ne rendo conto Diciamo di quello che abbiamo E dell'aria che respiriamo qui Qui si trasuda lirica opere note da tutti i pori Questo posto Io vedo stranieri che vengono qui Che a volte rimango io stesso allibito così Che hanno delle espressioni come estasiate Quando entrano nel paese e nel locale Li vedo estasiati quasi spaesati Come stessero contemplando qualcosa di soprannaturale Penso che questi posti trasmettono ancora Alle persone naturalmente appassionate del genere Perché chiaramente al profano non suscitano niente Ma agli appassionati penso che suscitano una grossa emozione Un sentimento particolare Adele Vax come si è avvicinata al mondo di Giuseppe Verdi E quando questo mondo per lei è diventata passione? Chiaramente ha avuto i primi contatti con il mondo di Verdi Attraverso la scuola di musica che lei ha frequentato E attraverso le lezioni di musicologia Però l'entusiasmo è arrivato con l'apertura di questo concorso Che è stato patrocinato dall'ambasciatore italiano in Estonia Marco Clementi Che ha voluto questo concorso verdiano In occasione del bicentenario della nascita del maestro I ragazzi sono stati invitati a presenziare Alle prove generali del rigoletto E poi invitate a scrivere un tema in merito Che effetto le fa essere passata dai libri Quindi dallo studio della figura Della musica delle notte di Verdi A assaporare adesso personalmente Quelli che sono i luoghi di Verdi Che sensazione e prove Che effetto le fa Naturalmente studiare qualcosa sul libro Sulla parola cambia tutto Quando tu arrivi e tocchi con mano i suoi luoghi Specialmente avere la Santa Agata stamattina Vedere il giardino che il maestro ha creato E dove ha tratto tanta ispirazione Mi ha lasciato un'emozione veramente indescrivibile E naturalmente tutto questo mi aiuta Ancora di più a capire la musica L'ispirazione e da dove è venuto Questo grande del Novecento Per finire al di là dei ricordi legati a Giuseppe Verdi Quali ricordi invece dell'Italia e dell'Emilia Romagna Porterai in Estonia, nel tuo paese Insomma cosa racconterai di quello che hai visto? La più grande cosa che mi ha colpito E' proprio l'ospitalità Abbiamo avuto alberghi E ristoranti assolutamente meravigliosi Fantastici E le persone che incontriamo Ci accolgono con braccia aperte E naturalmente per non dimenticare La natura meravigliosa che vediamo Tutto attorno E queste città splendide Che abbiamo visitato Dal punto di vista musicale Busseto ha l'unico concorso al mondo Un concorso che si chiama Voci Verdiane Quindi solo sulla categoria Del repertorio verdiano Quest'anno arriviamo alla 52esima edizione L'anno scorso abbiamo festeggiato L'edizione del bicentenario E abbiamo sempre L'anno scorso c'era come presidente Della commissione Leonucci Adesso stiamo mettendo in campo Il nuovo bando Con la nuova giuria Che prevede alcune novità Tra l'altro una collaborazione Penso che si possa un po' anticipare Anche col comunale di Bologna E per un'opera da fare Durante il Festival Verdi Anche queste sono un po' le anticipazioni Per quando che conceda nel 2014 Allora diciamo che Il perno è il concorso delle Voci Verdiane Come vi dicevo Perché è l'unico concorso Che esiste al mondo su queste categorie Da lì si sviluppano tutte altre cose Noi abbiamo come progetto Che è già partito l'anno scorso Con Luisa Miller In perfetto accordo con la regione Con l'assessorato Sia alla cultura Che alla formazione E noi pensiamo Di far ripetere L'esperienza come lo scorso anno Di fare il concorso Che serve come bacino d'utenza Per selezionare i cantanti Ovviamente assegnare i premi E andare alla ricerca Dei cantanti Per fare un'accademia Propedeutica Alla realizzazione Di un'opera L'anno scorso era Luisa Miller Quest'anno pensiamo di fare Traviata Quindi il concorso Fa un salto in avanti Un salto in avanti Che è quello di dare una produzione Perché un concorso Fine se stesso Ce ne sono tanti in Italia Bisogna arrivare A dare un palcoscenico Ai giovani Busseto da solo Non lo può fare E si è vantato Di collaborazioni esterne Busseto è un comune Di 7000 abitanti Ha quello che vedete qua È un luogo bellissimo È un teatro Ma non è un vero teatro Perché non esiste una struttura È un teatro Che non ha un orchestra Non ha un coro Non ha personale È gestito dal comune Di conseguenza Noi abbiamo bisogno Delle collaborazioni Non possiamo sfidare i grandi Ma dobbiamo collaborare Con i grandi teatri Sia con il Reggio di Parma Abbiamo fatto con il Municipale Il Festival di Ravenna L'anno scorso Con un bellissimo evento Davanti alla Casa Natale A Roncole E per esempio Anche con il Municipale di Piacenza Abbiamo fatto diverse cose Quello che noi stiamo cercando di fare È proprio un'unione Di un territorio Che vada dall'Emilia Romagna Fino alla Lombardia Perché teniamo presente Che la vera città Verdiana per eccellenza È Milano La cosa veramente molto interessante È che anche questi paesi Stanno prendendo Un fortissimo sviluppo Per quello che riguarda La cultura italiana Noi abbiamo una valanga Di studenti Di canto Che vengono in Italia Per imparare a cantare È questo che ci deve far riflettere Cioè noi abbiamo un patrimonio Che non dobbiamo Che è invidiato Dal resto del mondo Viene la gente qua Poi gli altri sono capaci Di fare i progetti Di realizzare le cose Noi invece ci perdiamo sempre Su tutte le cose più Scusate il termine Più stupide che esistono Per non poterlo realizzare Guardate quanta gente Viene anche dalla Cina Per studiare Cioè basta vedere I nostri conservatori Nelle classi di canto Sono pieni di cantanti stranieri Che tengono aperte Che tengono aperte Le classi di canto Dei conservatori Cantano verdi Sì Bene Intanto imparano l'opera italiana Non dimentichiamo Che in questa zona A 20 km da qui È nata l'opera lirica Con Monteverdi a Cremona Cioè quindi C'è proprio L'opera L'opera viene chiamata Opera italiana Proprio perché nasce qua Questo è un patrimonio Che ci stanno invidiando E noi lo stiamo Un po' troppo sottovalutando E noi lo stiamo